Piacenza, con quasi 10.000 ettari, è la prima provincia del Nord Italia per superficie coltivata a pomodoro da industria. Il dato arriva da Coldiretti Piacenza, che annuncia la scadenza del termine di 120 giorni previsto per l'entrata in vigore, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, della etichettatura obbligatoria prevista dal decreto ministeriale su prodotti come conserve e salse, oltre al concentrato e ai sughi, che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro. I prodotti made in Italy, ottenuti con pomodori coltivati e trasformati in Italia, spiega Coldiretti Piacenza, saranno quindi facilmente riconoscibili sugli scaffali dalla dicitura Origine del Pomodoro Italia e dovranno indicare sia il paese di coltivazione che quello di trasformazione. Si tratta di una misura di trasparenza attesa dei produttori, dopo che nel 2018, rileva Coldiretti, sono arrivati dall'estero il 15% di derivati di pomodoro in più rispetto allo scorso anno, corrispondenti a un'invasione straniera di ben 86.000 tonnellate in Italia provenienti nell'ordine da Stati Uniti, Spagna e Cina.